Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. Continuiamo con l'analisi della varianza. Prendiamo per esempio un caso dove abbiamo un certo numero di popolazioni da P1 a PK e immagino di prendere un campione di elementi n per ogni popolazione. Quindi ottengo per ogni popolazione un campione con una certa media e una certa varianza. Quindi caso 1, campione K. La scrittura è un po' difficile da fare col mouse, ma avete capito. Posso calcolare la media delle medie. Quindi ottengo una media delle medie. Posso calcolare la varianza media. Quindi ottengo una varianza media. E poi posso calcolare anche un'altra cosa. Se io considero come campione un insieme di punti costituiti dalle medie, se questo qua è un campione, se faccio più campioni della stessa popolazione, avrò una certa dispersione, diciamo, media, che alla fine è questa, e avrò una varianza delle medie. S quadro delle medie. E come si può immaginare, la varianza delle medie è tipicamente più piccola. Si può dimostrare che la varianza media, quindi S quadro, è n volte, dove n è il numero di campioni, la varianza delle medie. Se ci pensate ha molto senso, perché se io avessi un infinito numero di elementi per ogni campione, quel che accade è che la varianza delle medie tende a zero, perché tutte le medie saranno uguali, dato che se io ho infiniti campioni, la media del campione coincide con la media della popolazione. Quindi, in un caso normale, quindi dove queste popolazioni, diciamo, sono uguali, quindi prendo un campione della stessa popolazione, e la popolazione è di tipo gaussiana, in particolare in cui hanno tutte quante la stessa deviazione standard, che è un'ipotesi ragionevole, posso scrivere questo rapporto F come n per S quadro della media diviso S quadro media. In questo caso, questo rapporto dovrebbe essere pari ad 1. Bene. Quindi, se il rapporto è uguale a 1, o in qualche modo un'evidenza che queste popolazioni sono uguali. Se invece dovesse succedere che una di queste popolazioni è differente, per esempio così, avrà una certa varianza, ma avrà un valore medio con un delta, quindi avrà un effetto sul valore medio. Per esempio, se questa popolazione è un dado truccato. Se ho un dado truccato, se vado a vedere, diciamo, le mie medie, è come se avessi un outlier, che quindi mi va a incrementare di molto la varianza delle medie. Incrementandomi la varianza delle medie, ma facendomi di maniera abbastanza simile la varianza media, questo rapporto cresce e diventa molto maggiore di 1. Questo è un segnale dove c'è una popolazione che è diversa dalle altre, e quindi in qualche modo c'è un effetto che deve essere quantificato. Questa funzione F in particolare segue la cosiddetta distribuzione di Fischer-Snedeker e questa funzione varia in base ai gradi di libertà del numeratore, chiamati qua Nikon 1, e ai gradi di libertà del denominatore, chiamati Nikon 2. L'area sottesa a questa curva sarà pari a 1 perché l'area sottesa è la probabilità di un certo evento di accadere, quindi pari a 1 perché a 1 corrisponde il 100%. In particolare si utilizzerà questa distribuzione per valutare la presenza di un effetto grazie al test F. in particolare scegliendo la fallacità, quindi la percentuale di errore che noi ammettiamo, quindi la probabilità di commettere un falso positivo, quindi un errore di prima specie. Torniamo nel nostro caso. Se immaginiamo che tutte le popolazioni siano dadi normali, mi aspetto quindi che l'indice di Fischer risulti circa pari a 1, intorno ad 1 comunque. Perché poi queste popolazioni in realtà non sono gaussiane nel caso di un dado, però per esempio lo è una popolazione formata dalla somma del lancio di più dadi. Se invece abbiamo tra queste popolazioni una formata da un dado truccato, mi aspetto che l'indice di Fischer tenda ad aumentare. Proviamo adesso a calcolare l'indice F in due casi. Un caso dove ho dado e dado, quindi mi aspetto un indice di Fischer piccolo, tipicamente tra 0 e 1, massimo 2, e tra dado e dado truccato, dove mi aspetto un indice molto grande. Quindi iniziamo, chiamo D1 dadoDN e D2 dadoDN dado e dado truccato sono due funzioni che avevo definito nel video precedente che vi linko in descrizione. Semplicemente fanno N tiri, quindi creano un campione di un dado o un dado truccato. Come prima cosa devo calcolare la media dei singoli campioni. media1 e posso calcolarla con NampiMin DD1 media2 e NampiMin DD2 Poi posso calcolarmi la varianza del campione 1 e del campione 2. Si può calcolare in modo pressoché identico la deviazione standard grazie alla funzione anziché STD la funzione var che è pressoché identica. In particolare devo anche in questo caso inserire il delta di grado di libertà pari a 1 perché è una varianza campionaria 2 di 2 bene. Ora devo calcolare la media delle medie. La chiamo M di M media delle medie che è banalmente M1 più M2 diviso 2 poi devo calcolare la varianza media che è pari allo stesso modo V1 più V2 diviso 2 M1 infine infine calcolo la varianza delle medie questa la posso calcolare banalmente facendo M1 meno M di M al quadrato quindi facendo la somma dei quadrati più M2 meno M di M al quadrato calcolo l'indice F come M per V di M diviso V M print F ho due dadi quindi mi aspetterò un F tra 0 e 2 al massimo 2.4 0.2 1 0.8 0.4 0 insomma il valore di F è molto basso e se invece cambio quindi metto un secondo dado truccato BAM F pari a 102 103 85 95 81 quindi già da questo riesco a individuare che tra dado e dado truccato c'è una differenza e questa è un'indicazione molto più importante rispetto alla media e alla deviazione standard che comunque ti danno dell'informazione ma questo è qualcosa in più posso fare di meglio assolutamente sì utilizzando la distribuzione di Fisher potrò fare il test F per poter anche valutare l'errore ammissibile per definire se c'è una differenza tra i due campioni quindi tra i due popolazioni ammettendo un errore ma questo test lo farò nel prossimo video quindi se vi è piaciuto il video mettete like inviate i commenti se volete farmi delle critiche molto importanti e iscrivetevi al mio canale così potete essere aggiornati sui miei video vi saluto ciao da Andrea ciao